Parla tifoso Partenopei! È con grande entusiasmo che vi comunico le ultime notizie sui programmi del nostro club per la prossima stagione. Come sapete, siamo sempre alla ricerca del miglioramento per ottenere i migliori risultati sul campo. Contiamo quindi sul sostegno e sulla partecipazione di ciascuno di voi. Non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento. Il Napoli è determinato a rinforzare la propria difesa per la prossima stagione, e una figura in particolare è tornata nel mirino del club, David Anko. Con la partenza di Kim, la ricerca di un difensore si è intensificata e Anko appare come un'opzione promettente per gli azzurri. Sebbene Ramani e Juan Jesus occupino attualmente la formazione titolare in difesa, il Napoli riconosce la necessità di avere una squadra robusta e competitiva in tutte le posizioni. Juan Jesus, inizialmente visto come un'opzione secondaria, ha guadagnato sempre più spazio grazie alla sua costanza di prestazione, ma c'è ancora margine di miglioramento in difesa. David Anko, giocatore che in passato ha attirato l'interesse del Napoli, è ancora una volta nel mirino del club italiano. Tuttavia, le trattative potrebbero incontrare un ostacolo significativo, dato che il Feyernord, l'attuale club del difensore, ha fissato un valore di mercato elevato. Con una valutazione vicina ai 30 milioni di euro, il Feyernord dimostra di non essere disposto ad agevolare la partenza del giocatore. Considerato questo scenario, è chiaro che il Napoli è disposto a investire per rafforzare la propria difesa, ma dovrà affrontare sfide significative nelle trattative. Ora vogliamo sentire la vostra opinione, fan fedeli! Cosa ne pensi del possibile acquisto di David Anko? Potrebbe essere il tassello mancante per consolidare la nostra difesa e realizzare grandi traguardi la prossima stagione? Non dimenticate di lasciare i vostri commenti qui sotto e, naturalmente, non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutte le ultime novità del Napoli. Insieme siamo più forti! Questa è stata un'altra notizia esclusiva del Napoli. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti presto. Alla prossima, tifosi napoletani! Forza Napoli sempre!